L'alba del Covid-19. È veramente l'inizio di un nuovo giorno? Cosa ci aspetta alla fine del tunnel? A cosa si stanno preparando medici e ricercatori? Il Covid ha lasciato ai pazienti di Messi una pesante eredità. Cambia la sessualità? Come potrebbe cambiare il Servizio Sanitario Nazionale dopo questa esperienza? E soprattutto, sta realmente finendo tutto? Abbiamo parlato di questo e molto altro ancora con professionisti nel campo medico e nella ricerca. Il professor Maurizio Bossi, medico andrologo e sessuologo. La professoressa Ornella Marelli, ricercatrice immunologa e farmacologa. Il dottor Rodolfo Guarnieri, medico pneumologo. Il dottor Massimo Valverde, medico endocrinologo e farmacologo. E con i professionisti della comunicazione. Il giornalista Marco Marturano e la social blog Maria Grazia Sartirana. Tutto questo prossimamente nel format Salutiamo. La salute a portata di radio. In onda solo su DJ Fox Radio Station. La radio che ti rincorre.